segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te è come i clown che non fanno più ridere io dico il movimento 5 stelle ci faccia sapere io penso che il paese non possa più aspettare c'è bisogno di rimettersi in moto c'è bisogno che il governo tra chi possa governare se vogliono andare alle elezioni si va alle elezioni se si vuole andare avanti con questo governo si va davanti con questo governo è la scelta che noi preferiamo se si vuole fare un draghi bis si faccia il draghi bis ma non si può più far aspettare la gente allora professor de masi e intanto un commento